Bene, eccoci con Francesco Sanapo in diretta da Melbourne. Una prima domanda, Francesco, sei già uscito dal tuo laboratorio, dalla casa dove ti trovi per andare a vedere un po' quale sarà lo scenario dove si svolgerà il campionato mondiale baristi o non sei ancora andato a vedere l'ambientazione? No, ancora no, perché ancora siamo chiusi in una stanza, chiusi in un'aula training, quindi no, ancora no, ma non ne sento neanche l'esigenza di andare a vedere ora la fiera, mi metterebbe solo attenzione e pressione. Magari siamo andati a visitare qualche caffetteria a Melbourne, questo sì, ci siamo dedicati del momento libero, ho pensato un po' per andare a vedere caffè, però è stato molto entusiasmante. Il campionato mondiale baristi, Francesco, ne abbiamo parlato nelle precedenti occasioni, non è detto che porti in evidenza i baristi migliori, tu ti definisci un barista e ti sei definito un barista che si presenta al campionato mondiale baristi. Che cosa vuol dire presentarsi da barista al campionato mondiale baristi? Significa crescere, mettersi in gioco, capire quali possono essere le cose dove si può apprendere di più, capire dove ci possono essere dei margini di miglioramento, ma soprattutto io penso che uno dei motivi principali per cui un barista debba fare una competizione è semplicemente perché durante la competizione si fa ricerca. pensate che ogni singola competizione che ho fatto ho studiato in maniera particolare il profilo di tostatura del caffè, ho studiato la parte gustativa, ho studiato tutti i vari aspetti e questo non ha fatto altro che farmi crescere a livello tecnico. Quello che riguarda la competizione di sé per sé, quello che abbiamo detto anche le scorse volte, non emerge il miglior barista, come io non mi sento di essere il miglior barista d'Italia, forse il miglior competitor, perché poi in 15 minuti c'è veramente in gioco tutto quanto, quindi… e poi sinceramente la gara è una cosa bellissima perché ti dà un sacco di stimoli nel lavorare bene, nel fare sempre meglio, però poi la vita è un'altra, la vita non si racchiude in 15 minuti, un'azienda ha bisogno di tante altre cose in più, se io vado a fare consulenza sul caffè eccetera eccetera per un'azienda, non è che ha bisogno di Francesco Sanapo per 15 minuti in maniera precisa, ha bisogno di un Francesco Sanapo o chi che sia, che possa dare qualcosa in più all'azienda per la quale si lavora. Certo, ci sono sul campionato mondiale baristi, ci sono anche degli aspetti forse un pochettino patologici, un pochettino che vanno oltre quella che dovrebbe essere l'attività del barista. Ci raccontavi in precedenti occasioni e vorrei che tu lo approfondissi un attimo, come alcuni concorrenti tengono praticamente delle lezioni di agronomia ai commissari, questo cosa vuol dire? Tu invece che cosa dirai del tuo caffè? Guarda, è una bella domanda in quanto penso che a questo mondiale vorrei un attimino riuscire, sembra brutto perché siamo stati sempre penalizzati, però a riuscire a fare l'italiano, nel senso io non sono nato in un paese di origine, sono nato in Italia dove c'è una grande cultura e storia dell'espresso e del servizio eccetera eccetera, quindi mi focalizzerò un attimino in più su quella che è la mia interpretazione dell'essere barista, quello che porterò in gara, così tanto per anticiparlo un po' a tutti voi, a tutti i lettori di Comuni Caffè e semplicemente analizzare l'evoluzione del gusto dell'espresso. Tutto è successo… Con questa video intervista più che ai lettori, a chi guarda Comuni Caffè che oramai sta diventando quasi una televisione… Esatto, però a tutti quelli che ora mi stanno guardando voglio dire che quello che cercherò di fare sarà analizzare insieme ai giudici l'evoluzione dell'espresso durante la sua vita, per me la vita di un espresso inizia quando il barista serve l'espresso, tutto è nato in un bar, semplicemente notavo due ragazze a bere l'espresso, mi sono messo lì e vedevo che non bevevano mai l'espresso in un unico sorso, ma facevano un sorso, poi si mettevano a parlare e a discutere tra di loro e io dentro di me dicevo dai forza bevete quell'espresso, si fredda, ma poi mi sono girato e ho notato che c'era un ragazzo seduto al tavolo che leggeva il giornale e faceva un sorso, voltava pagina, da lì ho capito che ogni persona, che nessuno beve l'espresso in un unico sorso, ma viene suddiviso. Il giorno dopo sono ritornato al bar con tanto di cronometro e senza farmi notare perché altrimenti la gente mi scambia per pazzo, cercavo di cronometrare le tempistiche di consumo dell'espresso e lì è emerso che un espresso in media viene consumato circa intorno ai 60 secondi. Bene, in quei 60 secondi l'espresso cambia il suo gusto, grazie ad una normalissima abbassamento di temperatura. Quello che vorrei fare lì è simulare quello che succede nel bar insieme ai giudici, quindi andare a degustarlo in più sorsi, andare a capire come si evolve durante i vari sorsi, solo questo. Appunto non parlerò, certo è normale che debba dare delle informazioni ben precise sul mio caffè, sul processo di lavorazione eccetera, però non saranno la chiave di lettura della mia gara perché quello che vorrei fare nella mia gara è cercare di raccontare loro come il mio espresso si evolve durante la sua vita. La tua presenza sarà quella di un barista, di un barista tipico italiano. Un'altra cosa che si vede e si critica un po' del mondiale baristi è come molti concorrenti portino davanti ai giudici una sorta di spettacolo, una sorta di esibizione. Tu che cosa pensi di questo aspetto? Ma guarda io penso che ogni barista al mondiale porti poi realmente una tesi di ricerca, nient'altro perché ogni barista va a… certo ci vuole quel tocco di spettacolo perché non penso, se siamo lì vogliamo dimostrare a tutto il mondo quanto amiamo il nostro lavoro, quindi non vedo perché non togliere lo spettacolo, però la principale caratteristica di ogni barista e di ogni 15 minuti di gara è sicuramente che in quei 15 minuti ci deve essere un qualcosa che può essere preso di spunto per una ricerca ed è quello su cui ho puntato. Poi noi italiani siamo ancora un po' troppo lontani dal poter arrivare a vincere il mondiale, con questo non mi voglio autofrustare, semplicemente dicendo che siamo un po' lontani perché arriviamo comunque non conosciamo bene tanti aspetti, tante regole, tante interpretazioni delle regole e io sicuramente non è che mi voglio dirvi oggi ah io andrò a vincere il mondiale perché veramente siamo tutti lontani dal world barista champion e quello che vorrei fare io è semplicemente cercare di avvicinarmi, avere un buon piazzamento, semplicemente perché poi chi verrà dietro dopo di me potrà avere dei buoni risultati poi a sua volta, quindi avvicinarci, step by step avvicinarci e ritornare come professione, come professione barista ad essere rispettati un po' di più nel resto del mondo. L'appuntamento Francesco è ancora per domani ma vorrei farti concludere questa conversazione sul fatto che comunque lo si voglia vedere il world barista championship rappresenta come dire l'avanguardia del barista, il barista che vince bene o male e non magari il miglior barista del mondo ma quello che rappresenta l'avanguardia del barista, il massimo della cultura del barista in questo anno. Tu che cosa ne pensi? Hai fatto una buona analisi Mario e sicuramente non emerge solo il miglior barista in quanto poi emerge anche il miglior caffè o comunque quello che in questo anno, in quell'anno è piaciuto di più ai giudici che si hanno davanti quindi hai trend anche da seguire no? Sicuramente miglior barista, miglior tesi di ricerca e soprattutto miglior caffè, questo è quanto. Bene Francesco ti ringrazio, finalmente oggi ti vediamo bene, adesso dopo la registrazione ci organizziamo un attimo per poterti vedere bene anche oggi, alcune registrazioni non abbiamo potuto proporle per problemi tecnici, ringrazio Francesco Sanapo e ti prego di restare ancora un attimo in linea per accordarci per domani.